Ieri vi abbiamo raccontato delle proteste dei migranti nella zona del Casertano. Oggi sono partite le ispezioni nel centro di accoglienza per la verifica degli standard igienico-sanitari. Situazioni disagiate che si ripetono spesso, ma con Gerochetti siamo andati anche a scoprire il lavoro di chi si adopera, fattivamente, per l'integrazione dei profughi sul territorio. Lo sgombero di uno dei due centri, chiusi dalla prefettura di Caserta, Casal di Principe e Villa Literno, i 2.700 migranti sparsi per i 101 centri del Casertano sono spesso protagonisti di episodi di proteste più o meno violente. La ragione principale è che queste strutture sono spesso dei depositi di esseri umani abbandonati a se stessi. Noi ci sta acqua caldo, mangiare non è buono, non è scuola italiana, non è ospitale. Siete abbandonati? Eh, non è buono. Al di là di quelli che sono i standard di accoglienza e di servizi alla persona, si devono creare dei presupposti per favorire i percorsi di integrazione e di inclusione sociale. Inclusione, integrazione. Da più di 30 anni da queste parti vige il fai-da-te di volontari laici e cattolici, ma anche di piccoli imprenditori che ristrutturano case che si acquistano pagando il fitto mensile, che vale come rata di mutuo. Il nostro progetto è quello di realizzare queste case per giovani coppie, anche per immigrati che vogliono mettere su un seme qua e piantare, fare della vera integrazione con il territorio. Questa è la casa del bambino, dell'associazione Black & White, dei missionari comboniani di Castelvolturno. Siamo sostenuti da fondazioni private e dai missionari comboniani. E lo Stato? Assente. Assente.